Siamo nei laboratori Brain Science all'Università Sapienza di Roma. Qui vengono misurate le attività cerebrali in risposta a comunicazione pubblicitaria, analisi del packaging ed altre attività anche di fronte alla percezione di opere d'arte. In questo momento, dietro di me, si sta svolgendo un esperimento in cui si può notare la rilevazione dell'attività cerebrale con quella specie di cuffia da pallanuoto che la dottoressa sta indossando in questo momento. Inoltre, si stanno monitorando i processi cardiaci e autonomici di emozione durante la visione di un filmato. Sulla base di queste informazioni sarà possibile comprendere, senza che la dottoressa ci riporti verbalmente le sue impressioni, se il filmato che ha visto è stato piacevole, è stato noioso e se l'ha emozionata. Queste informazioni possono avere rilevanza nell'ambito del marketing. Nello stesso tipo di setup sperimentale è possibile misurare se invece la ragazza ha difficoltà nell'interazione, per esempio, un sito web oppure con un particolare compito. Questo apre le porte invece per tutta un'altra serie di applicazioni circa la facilità con cui certe informazioni possono essere riparite.